Le case automobilistiche sembrano aver preso gusto a presentare macchine del tipo retro. L'abbiamo visto con la Mini, di cui è tanto fiera serena, l'abbiamo visto con la Maggiolino, con la Fiat 500 presentata recentemente e adesso vediamo un'altra presentata a Detroit ma di un marchio australiano. Il marchio è la Holden, che è una parte del gruppo General Motors, ha presentato la FIG, una macchina del tutto particolare e valeva la pelle a mostrare. Grazie a tutti per aver guardato il video. Diciamo subito che la vettura che vedete in queste immagini non è nuova, ma è talmente curiosa che non potevamo non parlare di lei. Si tratta della Holden FIG, una coupé del marchio australiano della General Motors che è stata equipaggiata con un motore V8 derivato dalla Chevrolet Corvette ed una carrozzeria che reinterpreta il design classico ed accurato della Holden FIG del 1953, una vera icona automobilistica del mercato australiano. La vettura, verniciata con un vistoso colore porfora, è lunga 5,2 metri e il motore V8 turbo compreso è in grado di erogare una potenza massima di 480 kW. La Holden FIG è stata adottata di ammortizzatori regolabili ad aria, sistemi interni di controllo a funzioni del tipo touchscreen, a cristalli liquidi e gruppi ottici a LED. La Holden FIG è un desiderio che da molto tempo aveva in mente il capodesigner Richard Ferlazzo che ha segnalato che lo sviluppo della vettura è stato realizzato in serrata collaborazione con i fornitori in modo di ridurre il pesante lavoro alla casa automobilistica australiana. Questa vettura non dovrebbe essere messa in produzione, ma ultimamente, visto alcuni esempi di diverse case automobilistiche, è giusto dire che è valido il detto mai dire mai. Grazie! E con il servizio di questa macchina del tutto particolare e che noi vi diciamo arrivederci alla prossima settimana o come direbbe Serena, saluti e baci. Sì, saluti e baci per questa puntata di Motor News da numero 27 è tutto e ci vediamo la prossima settimana con Marcello Padin e Serena Zaffa, grazie. Arrivederci.